Sì, sicuramente, anche il fatto che abbiamo giocato tantissime partite ci ha aiutato a riuscire a fare il gruppo, che è quello che alla fine che conta. Adesso che abbiamo un po' più di tempo per allenarci, sicuramente, ora almeno speriamo che i risultati saranno così, che saliamo in classifica. Senti più tranquille, quella vista domenica è la prova, no? Una squadra più tranquilla, sorridente, più libera. Sì, è vero che la vittoria ti dà anche un po' più di sicurezza, visto che arriviamo comunque dopo un periodo favorevole, un po' di tranquillità ce l'hai, un po' di sicurezza in più e si vende in campo. Quello che manca ancora forse è il tempo esatto tra Noemi Signorile e Giuliana Nucco, fate fatica a non trovare l'intesa perfetta. Sì, però stiamo lavorando, io sono tranquilla, adesso che abbiamo un po' più di tempo per allenarci sicuramente sarà meglio. Certo, questo non è un problema perché il tempo c'è, però manca proprio questo feeling, tu ti rifai a muro, quindi insomma i tuoi punti te li vai a prendere a muro, però ti manca un po' l'attacco. Sì, ma anche perché ognuno vuole schiacciare, ma finché la squadra sta andando bene e vinciamo è quello che conta. Adesso c'è il campionato domenica trasferta a Castellana Grotte, il filotto di cinque partite va allungato, no? Sì, anche se lì è un campo difficile, visto le ultime due partite che Castellana Grotte le ha fatto, che è andata a vincere a casa di Villa Cortese, poi ha fatto tre a due coneliano, sicuramente non sarà una passeggiata. Però speriamo di vincere, andiamo lì per questo.